Martedì 26 novembre 2019, Allianz Stadium di Torino, Juventus-Atletico Madrid, la mia esperienza grazie a Socios comincia qui, sono stato premiato con questa esperienza fantastica di poter vivere dallo Skybox di Socios all'Allianz Stadium, una partita che si preannuncia veramente epica e vi porterò con me per raccontarvi questa esperienza magnifica che potete fare anche voi vincendola attraverso il programma di fidelizzazione Socios, innanzitutto scaricando l'app e cominciando a raccogliere i fan token della Juventus, ma anche i Chili's token così da poter votare nei prossimi sondaggi della Juventus ma soprattutto partecipare ai programmi di premio e di vantaggio che vi consentiranno anche in futuro se sarete fortunati di vivere questa stessa esperienza. Venite! Grazie a tutti! E dall'interno della sala ristorante da cui poi si accede allo Skybox sono qui in attesa di cenare con tutta comodità, tutto comfort, ovviamente massima e migliore accoglienza possibile, poi ci sarà anche la possibilità di mangiare nell'intervallo della partita e ancora alla fine, insomma tutto con la massima accoglienza e disponibilità per un'esperienza unica e qui l'attenzione prepartita veramente non si sente, al massimo si mastica un po'. E come si tratta di venire al di fronte da qui, al di mezzo non si tratta di fare la prima cosa, ma è stata una cosa da qui. E come se non c'è, a qui si tratta di un po' di mezzo, non si tratta di più, non si tratta di più. Ed eccomi allora nello skybox di Sozios in attesa della partita Manca meno di mezz'ora, è in corso il riscaldamento delle squadre E bisogna riscaldarsi perché fa freddissimo Ma grazie anche a questo box appunto abbiamo l'opportunità di tutti i comfort E anche di riscaldarci un po' di tanto in tanto È un'esperienza fin qui meravigliosa, veramente accompagnati passo passo Questa esperienza che ci consente di vivere la partita in maniera assolutamente differente Le emozioni mi impediscono anche di trovare le parole giuste Perché è fantastico trovarsi qui e poter vivere la partita in maniera assolutamente differente E con grande comfort anche grazie a questo spazio Poi alla fine la partita la faranno sempre i giocatori in campo E il pubblico sugli spalti di cui comunque faremo parte Quindi buona partita Fine primo tempo, ci si riscalda con l'atmosfera Sozios Appena segnato un gol fantastico, pallo di balla, siamo 1-0 su questo Atletico Madrid All'Allianz Stadium, in pausa Sono tutti quanti a prendere qualcosa anche di caldo perché la temperatura è abbastanza bassa E noi siamo qui nello Skybox E abbiamo anche la possibilità di rivedere qualche immagine E c'è anche l'accoglienza con il sponsor probabilmente della Juventus Per un drink e qualcosa da mangiare La Juventus è prima nel Cirole di Champions WebA Champions League 2019-2020 Alla grande, alla grande Juventus Atletico Madrid 1-0 La mia live reaction per la prima volta dall'Allianz Stadium Grazie a Sozios che mi avete scritto qui dietro Che mi ha portato qui e mi ha fatto vivere questa esperienza fantastica Con la ciliecina, Paolo Di Bala Autore di una prestazione galattica Come lui e anche altri Perché è stata una furtissima partita della Juventus Ma per questo c'è il mio video commento post partita Allora vi saluto con l'inno della Juventus Che è una storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Cono che si alza davvero per te Portaci dove vuoi Siamo una turma in festa Come un abbraccio noi E ancora non ci basta, ogni pagina nuova sa, sarà ancora la storia di tutti noi, solo a chi corre può fare di te la strada che sarà lì. E la Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero, solo per te. E la Juve, storia di quel che sarò, quando fischia l'inizio e l'inizio è quel sogno che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Juve, storia di un grande amore, bianco che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Juve, storia di un grande amore, bianco che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Grazie a tutti